terza puntata poesia in amistà e continua ad annaranzi oggi so che un poco più sorridente perché le cose sono sempre meglio e quindi grazie chi se ti vende entrare in casa vostra il lucanale 88 ammettetevi il lubè perché se non va mentiti lucanale difficilmente potete decci chi sta testa puntata prevede alti servizi esterni li ditti gadduresi e prevede un incontro con ivan ponsano fai demo di folia lo telefono traduzione dal libro di gianni rodari in gadduresi o praticamente foli che diventano i gadduresi e poi amo poesie amo torino edu chi ci canta due canzoni insomma amo puro lezione di in qualche modo di poesia eccetera quindi noi v'aspettiamo non manchiti ciao